Ciao ragazzi, sono tornato con un nuovo video oggi per leggervi un altro passo della ricerca, ma stavolta non voglio concentrarmi sulla Madeleine, che già ho letto, o comunque su dei temi molto importanti e sentiti, quale per esempio la buonanotte della mamma, l'inizio della ricerca, il papà, tutte queste implicazioni sentimentali. Stavolta voglio leggervi un passo divertente, a mio avviso, molto divertente, che riguarda la zia Leonie, che ha una secchia dei problemi, cioè non sta tanto bene dei capocci. Comunque, leggiamo, e qui mi fa sorridere un po' quello che io credo sia il tentativo di Proust di iniziare a dirci qualcosa, quindi ci sta dicendo guardate che mia zia non sta, cioè nel senso non è che non sta bene, però ha una tendenza a volere in qualche maniera il cambiamento, vorrebbe qualcosa che colorasse un po' la sua giornata, e ce lo dice in maniera così, facendo un giro di parole, e beh, facciamo prima leggerlo. Se la giornata di sabato, che cominciava un'ora prima e durante la quale rimaneva priva di Françoise, passava per lei più lentamente di qualsiasi altra, mia zia attendeva tuttavia con impazienza, sin dall'inizio della settimana, che ritornasse come quella che racchiudeva tutta la novità e la distrazione che il suo corpo indebolito e maniaco fosse ancora in grado di sopportare. Eppure, non è che non aspirasse anche lei ogni tanto, eh, ogni tanto scrive, a qualche cambiamento più sensibile, che non conoscesse quei momenti eccezionali quando si ha sete di qualcosa di diverso dall'esistente, e coloro ai quali la mancanza di energia o di immaginazione impedisce di trarre da se stessi un principio di rinnovamento, domandano all'attimo che sopravviene, al postino che suona, di portare loro qualcosa di nuovo. Immagino al postino, signora Enel, mi fai qualche novità per caso qui nei dintorni, mi dica qualcosa di nuovo. E in realtà è un po' quello che vorrebbe fare la zia, infatti qui dice di portare loro qualcosa di nuovo, fosse anche di peggio, eh, dice pure qualche tragedia così, fresca fresca. Un'emozione, un dolore, quando la sensibilità che il benessere ha fatto tacere come un'arpa indolente, vuol risonare al tocco di una mano anche se brutale e a rischio di essere infranta quando la volontà che con tanta fatica si è conquistata il diritto di abbandonarsi senza ostacolo ai suoi desideri, alle sue pene, vorrebbe rimettere le redini nelle mani di eventi imperiosi, non importa se crudele. Qua già Proust ce l'ha detto, ce l'ha proprio esplicitato, cioè a costo di stare male, a costo di venire a conoscenza di un qualcosa di crudele, che sia, vabbè, non fa niente, basta che c'è qualcosa di nuovo in questa quotidianità e da qui in poi inizia a essere molto più preciso. Certo, poiché le forze di mia zia, che si esaurivano al minimo sforzo, non le tornavano che a goccia a goccia nel corso del suo riposo, il serbatoio ci metteva troppo a riempirsi e passavano dei mesi prima che lei avvertisse quel lieve sovrappiù che altri accumulano nelle attività e di cui d'altronde era incapace di sapere e di decidere quale uso fare. E già qui ci ha completamente convinti che sua zia, oltre che annoiata, sta anche poco bene fisicamente. Ci ha messo una pagina ad introdurci questo concetto. Perché secondo me ci sarebbe rimasto male se qualcuno l'avesse giudicata. C'ho questo presentimento. Sono sicuro che allora mia zia traeva dall'accumularsi di quei giorni monotoni ai quali tanto teneva l'attesa di un cataclisma domestico limitato alla durata di un momento. Un terremoto, ma giusto così, tanto... Ma tale da costringerla, una volta per tutte, a uno di quei cambiamenti che le sarebbero stati, lo ammetteva, salutari e ai quali non riusciva a risolversi da sola. E lei dice sarebbe molto benefico vedere un cataclisma domestico. Qualsiasi cosa, una rinalite, il nonno che prenda schiaffi tutti, qualsiasi cosa. Amandoci sinceramente, qua è il tentativo di Proust, comunque era una brava donna, ci amava, pure se sperava nelle peggio cose, però ci amava. Sarebbe stata contenta di piangerci. Rileggo la frase. Amandoci sinceramente, sarebbe stata contenta di piangerci. Io ti amo, ma voglio piangerti lo stesso. La notizia, che arrivasse in un momento in cui lei si sentiva bene e non aveva i suoi sudori, per carità, il cataclisma sì, però io devo stare bello in forma per godermi tutto lo spettacolo, che la casa era in preda a un incendio nel quale tutti noi eravamo già periti. Bellissima scena, proprio la zia non vede l'ora che succede una cosa del genere. E che ben presto non avrebbe lasciato pietra su pietra, quindi ha distrutto tutto e tutti, ma al quale lei avrebbe avuto tutto il tempo di scampare senza affanno. Quindi, cataclisma domestico, scoppia un incendio, la casa distrutta, la gente carbonizzata all'interno, lei tranquilla, si mette la vestaglia, si alza, tutta così carina, truccata, se ne va senza minimo danno, perché se no poi che se gode, e no, di senza affanno, alla sola condizione di alzarsi subito dal letto. E ci mancherebbe. E quindi, tempismo perfetto, dovette non di rado alloggiare tra le sue speranze, come quella che avrebbe unito ai vantaggi secondari, di farle assaporare in un lungo rimpianto tutta la tenerezza che aveva per noi e di suscitare la stupefazione nel paese sostenendo, coraggiosa e prostrata, moribonda ma in piedi, il lutto per la nostra scomparsa, quello ben più prezioso di costringerla una buona volta, senza tempo da perdere, senza possibilità di esitazioni snervanti, ad andare a trascorrere l'estate nella sua bella tenuta, dove c'era una cascata. Allora, la zia ama tutti e in questo fino a qui siamo tutti d'accordo. Non sta tanto bene, il suo corpo maniaco addirittura, come ha descritto prima, bellissimo, cioè il suo corpo indebolito e maniaco, quindi non sta male, insomma, fisicamente, a costo di godere di una novità, è pronta a sperare in un cataclisma, in un incendio, in un terremoto, in qualcosa che fa perire i componenti della famiglia. In questo poi c'è una specie di desiderio della zia, o perlomeno così io l'ho interpretato, perché quando Proust scrive, praticamente, non dirà alla generazione speranza, è come quella che avrebbe unito ai vantaggi secondari di farla assaporare in un lungo rimpianto tutta la tenerezza che aveva per noi. Quindi, mi viene un po' da pensare che in queste speranze ci sia un retrogusto amaro, cioè la zia ama effettivamente e realmente i componenti della famiglia, ma in qualche maniera è amareggiata dalle sue stesse speranze, che sono quelle relative ai cataclismi familiari, perché in fondo ama appunto i componenti della famiglia. E si capisce quando Proust scrive di farla assaporare in un lungo rimpianto tutta la tenerezza che aveva per noi e di suscitare la stupefazione del paese sostenendo insomma che è il lutto per la nostra scomparsa, eccetera, eccetera. Ma la cosa ancora più interessante sta per arrivare perché Proust scrive non essendosi mai verificato nessun evento del genere, cioè noi diciamo non viviamo tanto tranquilli, non è mai successo una cosa simile, di cui lei sinceramente fantasticava all'esito quando era da sola, ecco il motivo pure del rimpianto, perché lei non vuole ovviamente dire che insomma in qualche maniera sperava e spera in un evento del genere. Assorte in uno dei suoi innumerevoli giochi di pazienza si accontentava per rendere ogni tanto più interessante la propria vita di introdurvi delle peripezie immaginarie che seguiva con passione. Se fai film, proprio quelli che noi chiameremo film, pippe mentali, e qui forse Proust ha preso qualcosa, si divertiva a supporre tutto a un tratto così dal nulla che Françoise la dirubasse e che lei ricorrendo all'astuzia per accertarsene la cogliesse sul fatto. Cioè Françoise non ha fatto nulla di tutto ciò, è la zia che pensa abituata quando giocava a carte da sola ovviamente a fare insieme la sua parte e quella dell'avversario immagino che cambia postazione, no? E rivolgeva a se stessa le scuse imbarazzate di Françoise e vi replicava con tanto ardore e tanta indignazione che qualcuno di noi entrando proprio allora la trovava madita di sudore c'è voleva una fatica perché immagina tutte queste cose con gli occhi scintillanti e i capilli posticci scivolati fino a lasciarle scoperta la fronte calva forse dalla camera accanto Françoise sentì qualche volta i mordenti sarcasmi che le erano indirizzati e la cui invenzione non avrebbe dato sufficiente sollievo a mia zia se fossero rimasti allo stato puramente immateriale e se mormorandoli a mezza voce non li avesse resi più realistici finisce pure che non si diverte cioè sì vabbè immagino tutto questo faccio il teatrino mio ma poi se non succedono queste cose se Françoise non mi deruba se nessun incendio non mi diverto tanto in certi casi quello spettacolo in un letto e lo mette tra virgolette non bastava più a mia zia che decideva di portare i suoi drammi sulle scene e così una domenica immagino lei la prima volta che l'ho letto pensavo se fosse una specie di fiammifero sulla tenda per scatenare un incendio invece no con tutte le porte misteriosamente chiuse confidava a Eulalie i suoi dubbi sulla probità di Françoise la sua intenzione di disfarsi di lei e un'altra volta a Françoise i suoi sospetti di infedeltà sul conto di Eulalie che sarebbe stata messa alla porta quanto prima pochi giorni dopo disgustata dalla confidente di ieri era di nuovo in armonia con la traditrice l'una e l'altra destinata destinata peraltro a scambiarsi i ruoli per la prossima rappresentazione una volta una volta pensa che sia colpa di Françoise una volta la deruba Eulalie poi si scambiano e Françoise diventa Eulalie cioè tutto questo per rendere più colorate le giornate di di zia Leonie fa tutto da sola e Proust come posso dire ha un parere ovviamente nei riguardi della zia Leonie ma a mio avviso la guarda con molta tenerezza con molta compassione come dico guarda questa che c'ha un cazzo tutto il giorno non niente da fare e si immagina tutto questo ma i sospetti che Eulalie le ispirava di tanto in tanto non erano che un fuoco di paglia e svanivano ben presi Eulalie non era tanto così divertente non come Françoise non potendo alimentarli dato che Eulalie non abitava con noi quindi non poteva neanche constatare le sue fantastiche e diverso era il caso di quelli a carico di Françoise poraccia Françoise è tanto carina tanto dolce della quale la zia avvertiva la perpetua presenza sotto lo stesso tetto senza tuttavia azzardarsi per paura di prendere freddo lasciando le coperte a scendere in cucina per rendersi conto della loro fondatezza e dice io conosco Françoise è inutile che vado giù perché sennò poi c'ho freddo me levo la copertina io lo so com'è Françoise quella maledetta mo te faccio vedere io e inscenava tutto questo a poco a poco la sua mente non ebbe più altre occupazioni che cercare di indovinare quello che di continuo Françoise potesse fare e tentare di nasconderle e dice Françoise non me la racconta giusta mo te faccio vedere io coglieva i più furtivi questo è proprio bellissimo coglieva i più furtivi movimenti della sua fisionomia una contraddizione nelle sue parole un desiderio che avesse l'aria di dissimulare avendo questo mood mentale la zia non fa altro che coglie già hai detto quella parola hai fatto quel movimento quindi ho ragione io a pensare che tu sei una ladra e Françoise diceva ma che zia Leonie stai bene e le faceva capire di averla smascherata con una sola parola che faceva impallidire Françoise e che mia zia sembrava conficcare con crudele divertimento nel cuore della sventurata io penso che questo sia un ritratto divertente ma allo stesso tempo abbastanza preoccupante della zia Leonie che Proust ovviamente con sta faccia così tanto felice ha descritto in maniera come dico sempre magistrale è questo ciò che da scrittore esordiente da scrittore emergente da scrittore quale vorrei diventare ed è questo che imparo che cosa significa capire una personalità senza il bisogno di spiegarla Proust in questo caso la spiega o meglio come posso dire elenca anche qualche aneddoto si prende il suo tempo per descrivercela però messi su una bilancia da una parte la descrizione mia zia si annoiava e si faceva i film e tutto questo scenario descritto raccontato evocato ovviamente hanno pesi diversi perché è pur vero che ce l'ha detto è sì vero che ce l'ha detto quindi ce lo ha praticamente spiegato che è la parte meno professionale se vogliamo di una scrittura ad oggi intendo moderna non sto parlando di Proust quindi se io volessi non so spiegarvi il Carpe Diem o mo spacco tutto posso sì descrivervi che cos'è il Carpe Diem ma poi d'altro canto d'altra parte mescolati bene questi due elementi nelle pagine devo ovviamente farvi vedere mostrarvi che cosa significa Carpe Diem e magari posso raccontarvi non so di una persona che non si è goduta la vita perché ha sempre pensato ai soldi e poi è schiattato è morto senza godersi la vita quindi ve l'ho raccontato in questo caso Proust si prende la responsabilità di spiegarcelo in pochissime righe e di evocarcelo in tutto il resto questo fa della sua scrittura ovviamente una scrittura da prendere come modello li mando magari qualcosina giusto qualche parentesi lunga 4-5 righe però Proust e Proust glielo concediamo a sto bel giovanotto ragazzi io vi saluto vi voglio bene grazie per aver ascoltato questa lettura fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate io vi voglio bene ci vediamo alla prossima recensione o al prossimo video ciao